Per me essere arrivato qui è un grande traguardo, mettiamola così, perché comunque una piazza come Chieti fa bene sia mentalmente che comunque sono giovane e giocare qui e avere l'opportunità di cercare di vincere un campionato mi dà molta serenità e tranquillità. E poi per questo volevo ringraziare il direttore e il mister che mi hanno dato l'opportunità di venire qui e di giocarmela, di mettermi a disposizione della squadra e per i ragazzi sono contento perché comunque gli over ci aiutano, noi under, ci danno una mano sempre sia in mezzo al campo che fuori, quindi per questo sono molto contento. Qualche rammarico personale ce l'ho perché comunque ho avuto due occasioni da gol e dovevano essere sfruttate meglio perché comunque potevamo andare in vantaggio non solo di un gol ma pure di due nel primo tempo. Nella partita in sé è stata una partita, il primo tempo abbiamo giocato bene, le abbiamo pressate il secondo, ci siamo un po' abbassati forse per il gol che abbiamo preso, però comunque la squadra sarà sempre concentrata fino al novantesimo. Noi sicuramente vogliamo continuare di vincere in casa e davanti ai nostri tifosi perché comunque loro ci danno una grande mano non solo in casa ma anche in trasferta perché comunque loro lasciano le famiglie a casa e quindi noi soprattutto quando giochiamo davanti alla nostra città dobbiamo dare sempre il meglio. Sul Fano sappiamo che è una partita difficile perché comunque loro sulla carta hanno 12 punti e quindi sarà quasi uno scontro diretto per stare in alto e noi l'affronteremo come tutte le domeniche con la cattiveria, con la voglia di vincere e di prenderci questi tre punti.